Benvenuto ad Attilio Beffera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, grazie per aver accettato il nostro invito. Dottor Beffera è Claudio Siciliotti, presidente dell'Ordine dei Commercialisti, un volto noto ai telespettatori di Uno Mattina. Allora, quando entrerà a regime questa nuova maniera di pagare le tasse, lei quante tasse conta di recuperare e quanti soldi conta di riportare nelle casse dello Stato? Ma guardi, fare dei conti adesso è abbastanza difficile, c'è una previsione nelle relazioni tecniche parlamentari. 10 miliardi l'ha già portato in casa? Sì, quest'anno tranquillamente 10 miliardi, più abbiamo portato a casa in effetti altri 6 miliardi di frodi sulle compensazioni di credito imposta che abbiamo bloccato. Quindi quest'anno lo Stato risparmia 6 miliardi e incassa 10 miliardi in più, quindi sono 16 miliardi. Per quanto riguarda invece i nuovi meccanismi, le nuove tecniche che ci consentono di rafforzare il recupero e l'evasione, io direi che da Montanaro devo dire che l'importante è procedere su questa strada, su questa china, non è arrivare subito, pensare di arrivare, camminare, camminare al passo giusto e ampliare la capacità di recupero da parte dell'Agenzia Dentale e quindi dello Stato. Come cambierà la nostra vita, non la vita dei dipendenti, ma del popolo delle partite IVA? Noi abbiamo oggi un articolo che sulle pagine interne, ma con un richiamo in prima pagina nel Corriere della Sera, Fisco, Previdenza e Diritti, il manifesto delle partite IVA. 8 milioni di partite IVA nel nostro paese, alcune vecchie di 30 anni, altre nuove. Chi ha la partita IVA è uno che affronta l'idea del lavoro autonomo, anche i rischi del lavoro autonomo. Una delle lamentele dei lavoratori autonomi è che pagano all'Inps il 26% di un'imposta per una pensione che probabilmente non vedranno mai, quindi non è una cosa che riguarda direttamente lei. Ma come cambierà il regime di vita di un piccolo commerciante? Ma guardi, sostanzialmente con queste norme cambia poco, cerchiamo di ragionare una volta. Per quanto riguarda il redditome, il famoso redditome, si tratta di confrontare le spese sostenute con il reddito dichiarato. Cosa che dovrebbe essere naturale e normale comunque, purtroppo probabilmente in qualche caso oggi non avviene. Ecco, noi metteremo a disposizione ai cittadini un software perché possano fare questo confronto e possano adeguarsi spontaneamente senza che l'Agenzia delle Entrate debba fare degli interventi. Quindi da questo punto di vista per chi è in regola non cambia assolutamente nulla, cambia per chi invece normalmente evade. Per quanto riguarda il limite di 3.000 o 3.600 euro per la denuncia, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli acquisti effettuati, vorrei precisare che un acquisto fatto a 3.000 euro, di 3.000 euro, normalmente avviene attraverso l'uso di una carta di credito, di un banco. Cioè tu non è che vaga con un fascio dei bigliettoni? Bisogna soltanto dare in più il tesserino del codice fiscale. Anche qui, per chi è in regola non è che cambi assolutamente nulla. Forse cambia tanto a chi va col rotolone dei contanti a comprare qualcosa o a ottenere un servizio che ha un valore 5-6.000 euro. Ecco lì, per la prima volta questo rotolone dei contanti non dovrebbe funzionare perché ci dovrebbe essere l'acquisizione del codice fiscale, il rilascio di una ricevuta e così. Questo secondo lei basterà a stanare alcuni datori di lavoro che denunciano meno dei propri dipendenti? Anche qui vorrei sfatare un po'. Se facciamo la statistica di Trilussa, per cui diciamo che in Italia c'è quella dei polli, certe situazioni possono verificarsi o possono sembrare. Sicuramente ci sono dei dipendenti che denunciano meno dei dipendenti e attraverso il meccanismo sia del redditomeno che del controllo della spesa in effetti dovremmo avere una tendenza a salire della base imponibile, salire degli importi. Però qui guardiamo bene le statistiche, forse andando a vedere le statistiche per settore, se per esempio teniamo conto della base familiare di alcune imprese, per cui il reddito dell'impresa è diviso fra tutti i componenti della famiglia e quindi sembra apparentemente più basso. Ci sono una serie di meccanismi su cui si deve lavorare. È chiaro che non voglio difendere assolutamente gli evasori. In Italia abbiamo una base di evasione di intorno ai 100-120 miliardi. Questi provvedimenti che in alcuni casi regano fastidio o un piccolo fastidio ai cittadini onesti sono tutti provvedimenti fatti per cercare di recuperare questa evasione. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Bisogna stare attenti a mantenere il giusto equilibrio perché da un lato dobbiamo assolutamente recuperare il gettito finora perso perché serve, serve per i conti pubblici, serve per lo sviluppo, serve a tutti noi. Dall'altro mantenere l'equilibrio per non gravare troppo su ulteriori adempimenti ai cittadini. Quanto cambierà il lavoro dei commercialisti con il nuovo redditometro? Il lavoro dei commercialisti è già cambiato da tempo. Molto spesso noi viviamo questa condizione più come degli intermediari telematici che non come dei consulenti come dovremmo essere. È vero quello che ha detto il direttore Beffera, c'è bisogno di recuperare la fedeltà fiscale. Noi abbiamo difeso il redditometro e l'abbiamo proposto tre anni fa quando non ne parlava nessuno. Abbiamo detto più redditometro e meno studi di settore, più attenzione alle differenze tra la ricchezza spesa e i redditi dichiarati piuttosto che fermarsi su una categoria di contribuenti, quelli soggetti di studi di settore che sono sostanzialmente i piccoli e gli autonomi additando all'opinione pubblica questi come gli unici evasori quando non è vero. La condizione degli autonomi, lei ha mostrato il manifesto delle partite IVA, bisogna dirlo forte, gli autonomi sono il motore di questo Paese. Sono quelli che non dormono la notte per pensarsi che cosa fare il giorno dopo. E oggi tutte queste misure disegnano anche, io non voglio essere forte nelle espressioni, ma uno stato un po' di polizia fiscale dove in un certo senso si è dato un'enorme attenzione alla riscossione e poca attenzione forse alla giustizia. Molte di queste norme che lei ha citato erano state accompagnate da annunci che andavano anche nella direzione del riequilibrio. I limiti all'utilizzo dei crediti IVA in compensazione si era detto va bene, lo limito però anche amplio la possibilità da 500 a 700 mila euro. Questa innovazione è rimasta lettera motta. Come pure i limiti alla compensabilità in caso abbia debiti scaduti superiore a 1.500 euro si dice va bene però lo accompagno anche alla capacità di compensare i debiti nei confronti della pubblica amministrazione e i crediti scusi nei confronti della pubblica amministrazione. C'è con i debiti d'imposto. Anche questo è rimasto lettera motta. Chi lavora solo nei confronti della pubblica amministrazione diciamocene queste cose. che ha un fatturato di 100 e paga tasse per 20, 30, 40 ma questi 100 non li vede perché la pubblica amministrazione non paga. Chi dà giustizia a queste persone? Oggi questa forte attenzione sulla riscossione è comprensibile però dobbiamo dare anche qualcosa. Se un sistema fiscale si crea sulla fiducia. La fiducia si fa anche con gesti che premino i contribuenti onesti. Se no gli autonomi diventano evasori per necessità se gli si imputa di esserlo sempre. Certo, se però non si spezza il meccanismo per cui noi abbiamo una voragine nei conti dello Stato dovuta anche al fatto che c'è molta gente che non paga le tasse. E ci sono i condoni che periodicamente arrivano e che lasciano sempre sperare all'evasore. Noi non abbiamo mai difeso il condono del giorno in cui mi beccano. Questa è una categoria che non ha mai difeso i condoni e credo che i condoni uscivano la credibilità del sistema e quindi su questo sfondo a porte aperte. Il problema è che noi dobbiamo ridurre la spesa. Questa è la battaglia. Non avremo mai le riduzioni di imposte che vengono in qualche modo rappresentate se non avremo prima una riduzione della spesa. E anche i recuperi di evasione. Abbiamo parlato di 10 miliardi ma ce ne sono oltre 100. L'Italia è il secondo paese al mondo dopo la Grecia per evasione fiscale. Secondo paese al mondo. E altrettanto è anche forse il numero uno al mondo, è il terzo secondo le statistiche ufficiali, ma credo il numero uno per pressione fiscale. Perché se togliamo alla nota frazione l'economia sommessa... Ma non è che le due cose si tengono. C'è una forte pressione fiscale perché c'è una forte evasione fiscale. E c'è una forte evasione fiscale perché c'è una forte pressione fiscale. Bene, è un sistema che dobbiamo spezzare. È l'equilibrio degli squilibri. Cioè abbiamo da un lato i sussidiati della spesa pubblica, dall'altro i sussidiati dell'evasione fiscale. Oggi credo che la spesa pubblica debba naturalmente ridursi perché devono essere di meno le persone che svolgono le funzioni che sono loro affidate e chi produce redditi deve pagare le tazze fino all'ultima lìa. Questo è il sistema che noi dobbiamo abbattere oggi. Lei è un tecnico, dottor Beffera, le chiedo quasi un'affermazione di tipo politico, però so che lei se la cava egregiamente. Come si fa a rompere questo meccanismo e a cambiare una mentalità che è tutta italiana? Quella di fregare le tazze. È un problema, io ho sempre... Susturale, però. Susturale, di degenerazione probabilmente. Bisogna tener conto che in Italia l'evasione è sempre stata elevatissima. Stavo leggendo adesso un documento della Banca Italia, già addirittura prima dell'unità, ma appena viene creata l'Italia, l'evasione schizza subito su perché vengono fatte delle imposte che specialmente nel sud Italia non vengono riconosciute nella città. Quindi è un fatto culturale, ce l'avevamo dal 1600, ricordate sempre quel film di Benigni in cui al passaggio della frontiera c'è quel signore che dice «Quanti siete un fiorino?» Un fiorino. E pagare quel fiorino già era un grosso problema. Quindi questo è il problema fondamentale. Allora, quello che dice il presidente Siciliotti è verissimo. Il problema è che poi bisogna passare dalla teoria ai fatti. Allora, io mi occupo di recupero dell'evasione e devo agire sul recupero dell'evasione. Non posso subordinare il recupero dell'evasione alla giustizia, anche se è giusto parlare di questo. Non posso subordinare il recupero dell'evasione al recupero della spesa inutile. Io devo fare questo mestiere. E lo devo fare col massimo equilibrio possibile. È quello che stiamo tentando di fare. Ho dato istruzioni precise a tutti i dipendenti dell'agenzia, che peraltro hanno una professionalità notevole, perché poi questi 10 miliardi qualcuno ha recuperati e ne fa. Ecco, di essere attenti, di essere equilibrati, di essere trasparenti, di esercitare questo potere che noi abbiamo, che è il potere impositivo, di esercitarlo con la massima correttezza possibile. Quindi questa è una delle strade da intraprendere. È vero che bisogna intervenire sulla spesa, c'è chi lo sta facendo, ma non subordiniamo un evento ad un altro, perché altrimenti non ne usciamo. Allora, facciamo un attimo il punto. Cosa accadrà nei prossimi mesi? Se qualcuno riceve una lettera di contestazione da parte dell'agenzia delle entrate, verrà convocato a dimostrare le proprie ragioni. Assolutamente sì. Dopodiché c'è però la possibilità di un nuovo incontro, di un doppio contraddittore, è così? Allora, per quanto riguarda il redditometro, dal momento in cui partirà questo redditometro, o quello che noi chiamiamo accertamento sintetico, cioè l'accertamento di effettive spese, sostenute effettivamente con il reddito dichiarato. Quindi, lei ha comprato un qualcosa che ha un valore notevolissimo e non dichiara nulla. In questo caso arriveranno delle lettere a casa del cittadino che si dava in questa condizione. Il cittadino potrà tranquillamente dimostrarci che ha vinto al lotto, che ha avuto un'eredità, che la casa gliela ha pagato al padre, come già avviene. Se la dimostrazione di questa spesa, di come è stata effettuata questa spesa, è corretta, è congrua, finisce tutto lì. Qualora questo non fosse, a questo punto scatterà il cosiddetto avviso d'accertamento. Quindi passiamo dalla fase ancora di pura richiesta di informazione all'avviso d'accertamento. Come processo, diciamo così, un avviso di garanzia. Perfetto. E a quel punto riparte un'azione di presentazione dei documenti contraddittori. Quindi ci si incontra di nuovo. E poi, se si trova al punto d'incontro, l'equilibrio giusto, se la dimostrazione degli eventi, delle spese che fa il contribuente è sufficiente a dimostrare la correttezza dell'operazione, finisce tutto lì. Allora, teniamo presente l'esempio del processo, del procedimento penale. Io mi posso presentare con il mio commercialista in fase di contraddittorio? Assuramente sì. Sono i nostri principali interlocutori. Di solito il cliente viene da noi prima di andare da noi. Ah, non c'è dubbio. Si va dall'avvocato prima di essere convocato dal magistrato. E loro trovano tutti i meccanismi per cercare di fruttare lo Stato. No, no, credo che questo sia niente di più che una battuta. Il fatto nuovo è che oggi, o comunque a partire da luglio, l'accertamento sarà un titolo esecutivo per riscuotere. Questo è un altro problema. Un altro problema non perché astrattamente questo non sia giusto, ma perché spesso con la lentezza della giustizia tributaria si rischia, anche in caso di imposte non dovute, di doverle pagare prima di ottenere una legittima sospensione. Questo è un tema molto grosso che dobbiamo affrontare. Credo che il tema della giustizia tributaria sia un tema che deve entrare in agenda di quest'anno, perché altrimenti ci dimentichiamo di un problema. Ricorrere alla giustizia, una giustizia lenta e inefficiente come è oggi la giustizia tributaria, è qualcosa che merita una soluzione diversa dalla situazione attuale. Quando è il prossimo step, per dirla all'inglese, il prossimo gradino, il prossimo appuntamento in cui voi trarrete un po' le somme o, diciamo così, la seconda fase di questa azione? Tutte le norme che sono state introdotte quest'estate, sostanzialmente, partono nei prossimi giorni. La prima verifica quando avverrà? La prima verifica la faremo a sei mesi data, per quelle che partiranno adesso. Quindi in primavera, diciamo? Per quanto riguarda invece l'eliminazione della cartella di pagamento, che parte il primo luglio, la verifica verrà fatta in dicembre. La invitiamo a giugno allora, magari a fare una prima verifica di come è andato il nuovo repitore, insieme a lei. Buon piacere. Grazie per essere stati con noi, Lineal Tg1. Grazie. 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 Grazie.